Buonasera, ben trovati su Cusano Italia TV, canale 122 del digitale terrestre. Mi vorrebbe da fare una citazione dal film Vacanze di Natale e anche queste elezioni, ce le siamo messe alle spalle. Nel film si diceva un'altra cosa a proposito del Natale, questa è una nuova tornata elettorale, un nuovo momento importante di confronto per quanto riguarda i cittadini e la politica, quello che balza agli occhi, ma a quanto pare importa poco, interessa poco la politica perché ho seguito tutte le dichiarazioni di queste ultime ore e c'è stata poca attenzione al dato dell'astenzione che a me sembra invece un vero e proprio macigno sulla democrazia. Ma sta così, insomma stanno così le cose, nel senso che la politica va avanti, si prende i voti dai cittadini che hanno deciso di andare a votare e poi per quanto riguarda gli altri si aspetterà, si attenderà, staremo a vedere che cosa, come e quando. Oggi analizzeremo ovviamente in questi 90 minuti tutto il voto in tre blocchi distinti, dove avremo tanti ospiti a confronto dal mondo degli analisti, dell'economia, del giornalismo. Ma come sempre sarà la copertina di Aurora Vena ad introdurci al dibattito. Ci hanno visto arrivare, ma non sono stati in grado di fermarci. Questa distanza in termini assoluti alle scorse politiche è stata di 2 milioni di voti, si è ridotta a un solo milione di voti, quindi il messaggio è chiaro, Giorgia Meloni stiamo arrivando. Prendiamo atto del risultato e senza girarci intorno riconosciamo che è un risultato sicuramente deludente, molto deludente. Abbiamo già cominciato a costruire questa dimora che deve essere, come si è spesso detto, il centro di gravità permanente della politica italiana. L'Italia ha bisogno di un governo solido, la Lega è una delle forze che compongono questo governo solido, se qualcuno non ha voglia o non ha tempo, il mondo è grande, quindi non siamo una caserma. Da domani questa responsabilità è collettiva, la costruzione di un'alternativa per questo paese. Senza alleanza Verdi-Sinistra non comincia nemmeno la discussione, siamo in interno della costruzione dell'alternativa. Dal terzo polo in poi tutto ciò che ho fatto è cercare di avere un progetto politico. E io ho detto a Emma, quando abbiamo iniziato questo percorso, che il suo elettorato, ma sui suoi sondaggi, non i miei, come il nostro era incompatibile con quello di Renzi. E infatti hanno lasciato il terra il 40% di voti che avevano prima. Guardate signori che lo 0,39 a me e l'alternativa popolare la fa soddisfatta, perché noi abbiamo messo il seme della partenza. La politica quindi è ancora protagonista oggi più che mai in questa serata dell'imprenditore e gli altri. Siamo alla 34esima puntata di questa quinta stagione, 5 anni di confronto, di dibattito. E oggi è un dibattito importante perché andiamo ad analizzare le scelte degli italiani. E quello che potrebbe accadere in Europa. Allora, io intanto saluto gli ospiti di questo blocco, che sono Lorenzo Castellani, docente di storia delle istituzioni politiche della LUIS. Bentrovato Castellani. Grazie, ben rivisti. Ben rivisto, professore. Grazie per il contributo che ci darà. E poi ci serve sicuramente un analista che riesce a darci qualche informazione in più su questi flussi elettorali. e abbiamo Utrend, Davide Policastro, analista di Utrend. Ben trovato, Policastro. Grazie mille, buonasera. Andrea Valdambrini è collaboratore per quanto riguarda le politiche dell'Unione Europea per il quotidiano Il Manifesto. Ben trovato, Andrea. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera e grazie a voi per l'invito. Così tu ci aiuterai a capire se gli italiani sono andati a votare per l'Italia o per l'Europa. Perché io ho il sospetto che quando hanno votato gli italiani sapevano neanche che fossero le europee. È un voto bis delle nazionali questa. Sembra le elezioni di medio termine americana. Ma così, ho dato un mio parere. Poi voi ne fate quello che volete. Soprattutto consentirò di fare ciò che vuole dei miei ragionamenti e dei miei pensieri all'amico e collega Aldo Torchiaro del Riformista qui in studio. Ben trovato, Aldo. Grazie, grazie a te. Grazie per aver accettato il nostro invito. Aldo, attenzione. Ma è vero, si dice, o meglio, sei tu, dalle tue fonti, si parla di possibili dimissioni di un leader politico molto importante? Ma poi dimissioni vuol dire tutto e niente. Sì, in questo caso sì. Però Matteo Renzi ha preannunciato un passo indietro ed è un passo indietro importante perché è l'unico che ha assunto la responsabilità, o meglio, la corresponsabilità del flop clamoroso della lista Stati Uniti d'Europa. che è un flop, diciamo, che si deve in parte a lui, in parte naturalmente a quel Carlo Calenda che facendogli la lista speculare contro ha reso impossibile di fare. Ma Calenda che doveva fare? mica si poteva arrendere, diciamo così. No, si potevano unire, si potevano unire. Ma qui di chi ha responsabilità? Sai, direttore, come dice Sorrentino, non ti disunire. E loro si sono disuniti. Si sono molto disuniti. Si sono disuniti e Carlo gli è costato. Quindi passo indietro di Matteo Renzi che ha preannunciato un congresso straordinario di Italia Viva per l'autunno, quindi fine settembre. Quindi fa il passo indietro la Presidente. Sì, va bene, adesso, sì, no, no, Aldo, capisco. La Presidente di Italia Viva. Tu faccio io l'analisi. Fa un passo indietro, fa ovviamente, mostra la sua umiltà politica e dice ho perso, rimetto il mio mandato, poi viene rieletto al prossimo congresso perché si tratta di un partito che non ha, diciamo, queste leadership in grado di contendergli, no? No, però... No, 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 ma è un... Allora, premetto, non c'era ironia, è un atto onesto da parte sua dal punto di vista politico e lui si è sempre assunto le sue responsabilità quando si dimise e poteva pure evitare... Non è un fatto interno a Italia Viva, è l'apertura di un percorso per cui Italia Viva non esisterà più, cioè si farà una costituente con altri soggetti e insieme individueranno un nuovo leader che, premessa delle premesse, non può essere né Matteo Renzi né Carlo Calenda perché deve essere, appunto, tra i due litiganti un terzo che goda e chi è non lo sappiamo minimamente perché nell'identikit che oggi qualcuno ha fatto non deve essere, diciamo, parte del giglio magico di Renzi per intenderci. Ah, un rinnovamento. Davvero una figura nuova. Parallelamente, aggiungo, e questo è un retroscena, che Carlo Calenda, che stasera ha convocato la direzione di azione, ha anche egli paventato le sue dimissioni, non in maniera pubblica, in maniera squisitamente privata. C'è una smentita però, eh? C'è una smentita dell'ufficio stampa, dice... Certo, è una voce fuggita da una riunione riservata che non doveva uscire, quindi ovvio che ci sia una smentita, però lui ha detto il mio mandato è sul piatto, se lo volete. Non lo ha detto pubblicamente, lo ha detto nell'interna corporis di una riunione di direttivo di azione, quindi lo stile è comunque diverso da quello di Renzi, però si parla di passo indietro di ambe i due contendenti, come si dice in latino, visto che siamo in una prestigiosa diversità, simul stabant, simul cadent. Sì, stavano insieme e insieme cadono. E insieme rischiano di cadere. Beh, abbiamo cominciato subito in maniera effervescente con due bombe, come diceva il grande Biscardi, ad inizio trasmissione, ma adesso vengo da voi, eh? Non lo facciamo monopolizzare a Torchiaro questo dibattito, però ancora un'introduzione importante di analisi attraverso il servizio sul voto in Italia. Chiuse le urne, risultati consolidati. Le sorprese italiane non sono poche, ma partiamo dalle conferme di queste elezioni europee. In primis quella di Giorgia Meloni, detta Giorgia, che con Fratelli d'Italia è il partito più votato con il suo 28,8%. Anche il PD si attesta come prima forza di opposizione, segnando un balzo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle politiche del settembre 2022. All'interno della maggioranza si registra la prima sorpresa, con il sorpasso di Forza Italia a danno della Lega, simbolica e significativa l'affermazione degli Azzurri, che nel giorno scorso venivano dati per finiti dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, e che invece con il lavoro di Antonio Tajani si impongono quale seconda forza del centrodestra. Bilancio in chiaroscuro per la Lega, che rispetto a cinque anni fa, vede evaporare il 34% conquistato, ma che si consola con la timidissima crescita del consenso rispetto alle politiche del 22. Un dato che tuttavia rischia di portare strascichi per i malumori dei tanti non rieletti, ma anche e soprattutto mette a repentaglio la leadership di Matteo Salvini. Deludente il bilancio dei 5 Stelle, la squadra di Giuseppe Conte registra in assoluto il dato più basso di sempre, e che li porta per la prima volta al di sotto della doppia cifra. Le formazioni pacifiste quindi non sfondano, compreso quella guidata da Michele Santoro, che conferma quanto i sondaggi avevano previsto. Pace, terra e dignità conquista tuttavia oltre mezzo milione di voti. Sconfitta per i riformisti, sia gli Stati Uniti d'Europa con Riccardo Maggi, Emma Bonino e Mattiorenzi, che azione di Carlo Calenda. Le due formazioni centriste non superano la soglia di sbarramento. Ma la vera sorpresa di queste elezioni è racchiusa nell'esultanza di Angelo Bonelli e Nicola Fratoiani, che ottengono il 6,7% delle preferenze e saltano a Bruxelles come non accadeva da anni, né per sinistra italiana né per i verdi, che tornano all'Eurocamera a distanza di 20 anni. Qui è il caso di dirlo, l'unione ha fatto la forza. La nota peggiore riguarda però chi del proprio voto se n'è infischiato. La maggioranza degli italiani, infatti, ha deciso di non recarsi alle urne. E l'alibi delle belle giornate di un weekend di giugno non può essere una scusante. Ai seggi, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Interno, si sono recati meno della metà degli aventi diritto, il 49,7%. Una speranza viene dal voto degli studenti fuorisede. Erano 20.000 quelli che si erano iscritti e oltre l'80% di loro ha votato una goccia di colore vivido in un oceano pallido. Però questa è una giusta sottolineatura perché con una marea di astensione come quella che abbiamo visto, la speranza dei giovani fuorisede che vogliono invece dire la loro, nonostante la distanza, nonostante l'impegno dello studio, mostra una partecipazione giovanile molto importante. Allora, Lorenzo Castellani, Professor Castellani, cosa sta succedendo in Italia? Ci potrebbe essere, come dire, un nuovo bipolarismo, per come l'abbiamo conosciuto noi ai tempi di Berlusconi, che si potrebbe, come dire, stagliare sulle due leadership femminili Schlein-Meloni? Sì, l'impressione è questa, cioè la dinamica del voto, è un voto che in qualche modo si scoglie intorno ai due principali partiti dei due principali schieramenti, con una crescita sia di Fratelli d'Italia sia del Partito Democratico, con, diciamo così, una riduzione delle anomalie di sistema, potremmo dire così, nel senso che sono spariti i centristi, almeno, diciamo, dal risultato del servizio alle europee, quindi non c'è più un centro, e sono molto ridimensionati anche i Cinque Stelle, che sono stati un partito, diciamo, con delle difficoltà da inserire, da classificare come partito di sinistra, questo loro indebolimento, diciamo, li porta più dentro un progetto, diciamo, di centrosinistra, che vede il PD al centro, poi il Movimento Cinque Stelle, appunto, a WS, di là fondamentalmente Lega e Forza Italia hanno tenuto, anzi Forza Italia è cresciuta, Fratelli d'Italia pure, e complessivamente la coalizione, dopo più di un anno e mezzo di governo, ha un consenso, non in termini assoluti, ma in termini relativi, percentualmente più elevato, il che significa che essenzialmente l'elettorato di centrodestra è quantomeno soddisfatto del governo, comunque non troppo insoddisfatto. Questo ci porta, come dire, a pensare che la prossima stagione politica che abbiamo davanti sarà una stagione di contrapposizione prevalentemente tra questi due schieramenti, quindi mi pare che ci sia questo. Questo determinerà che cosa, a mio avviso, due elementi su cui si può riflettere, uno è la durata del governo, cioè è molto probabile che a questo punto il governo Meloni arrivi alla fine della legislatura o giù di lì, diciamo dipende poi dagli referendum sulle questioni costituzionali, ma comunque diciamo che verso la fine della legislatura ci arriva. L'altra questione è che il centro-sinistra, un po' più forte e in qualche modo anche con attori nuovi, può ricominciare a vincere soprattutto nelle città più grandicelle al doppio turno. La ZTL è più ampia, potremmo dire, con una battuta, ma questa è solo una battuta. Sì, diciamo che sopra, no, più che altro, al di là della ZTL, che questa può valere per le prime sette, otto città italiane, ma diciamo, anche in città che magari hanno 100-200 mila abitanti, questo avviene perché l'elettorato di sinistra, è un'elettorato, come si è visto peraltro anche in queste europee, più presente, più attivo, più disposto a mobilitarsi e quindi il secondo turno avvantaggia sempre quel tipo di elettorato. Grazie professore, grazie professore, così facciamo tempo anche a fare un secondo giro. Davide Policastro, Utrend, ma è vero che l'astensione sta penalizzando la sinistra, che è un dato abbastanza particolare, questo perché storicamente invece accadeva il contrario, no? Più gente votava e più la sinistra ne traeva aggiovamento, invece in questo caso meno gente vota, cioè l'astensionismo, per meglio dire, scusate, storicamente colpiva di più la destra, invece adesso colpisce di più la sinistra. Ce lo può confermare? Questa è una dinamica pluriennale che effettivamente ha danneggiato per molto tempo la sinistra prevalentemente. In queste elezioni in particolare però più che un danno della sinistra parlerei proprio di un partito al quale sono state segate le gambe dall'astensionismo che vuole un voto 5 stelle, che già è debole in elezioni che non sono quelle nazionali politiche e all'europea essendo una forza molto forte nel meridione perde ancora più voti perché nel meridione in particolare meno persone vanno a votare, sono andate a votare, perdono. Quindi è vero che questo può avere radeggiato anche la sinistra, anche se non so quante queste elezioni particolari, perché ad esempio uno dei motivi per i quali il Partito Democratico ha fatto un ottimo risultato per quanto si possa discutere appunto su valori assoluti eccetera eccetera è proprio il fatto che Elislein è stata capace di raccogliere una serie di candidati che hanno fatto un ottimo lavoro sul territorio e hanno raccolto tantissime differenze e questo chiaramente ha aiutato il Partito Democratico. C'è stato, voglio dire, un avvicinamento importante tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Poi tra l'altro leggevo un dato che è stato poco messo in risalto perché ovviamente e legittimamente Fratelli d'Italia e la Meloni festeggia la sua vittoria però Fratelli d'Italia cresce nelle percentuali ma perde 600 mila voti rispetto alle politiche il PD ne guadagna 250 mila pensate il Movimento 5 Stelle perde 2 milioni di voti ci conferma anche questo Policastro? Sì confermo e da una parte è abbastanza fisiologico che sia così perché sono andati a votare il 13-15% di meno delle persone quindi parliamo di diversi italiani. È possibile stabilire chi si sta astenendo? Cioè è possibile la fascia d'età se sono più gli adulti più i giovani che si stanno astenendo ancora prematuro poterlo stabilire? È sempre molto difficile poter capire chi si astiene in particolare in questo caso vedendo anche la geografia del voto e anche ad esempio i segmenti di età i risultati probabilmente è nella parte più intermedio barra anziana cioè parliamo tra i 35-65 anni che questa volta sono stati più colpiti in quanto la sinistra che è stata profondamente da quello che si vede è stata molto votata tra i giovani ha fatto un ottimo risultato mentre invece il Movimento 5 Stelle e la Lega in particolare che hanno un loro cuore tra i trentenni quarantennici inizio 50 anni sono andati tendenzialmente peggio la Lega non tanto però in termini relativi non tantissimo però comunque ha perso tanti voti Andrea Valdambrini che racconta all'Unione Europea per il quotidiano il manifesto prima ho fatto una battuta però in realtà insomma lo penso anche nel senso che queste sembrano le europee io ho sempre l'idea che siano elezioni di medio termine modello americano cioè si torna a votare e si cerca di capire attraverso diciamo un sondaggio più che ufficiale l'opinione degli italiani volevo sapere se anche tu hai questa sensazione e se ti sembra che questo rispecchi un po' quello che pensa l'opinione pubblica in questo momento della politica sì sicuramente hai ragione la nota è che non soltanto in Italia le elezioni europee sono considerate elezioni nazionali cioè che hanno a che fare con il dibattito politico interno la stessa cosa vale per le opinioni pubbliche e per le società di praticamente tutti gli altri 27 paesi in particolare noi abbiamo visto nel caso della Francia e nel caso della Germania che si sono aperte delle crisi politiche in Germania per ora limitata in Francia è stata deflagrante perché noi abbiamo visto nella notte diciamo dei risultati nella notte elettorale come il presidente francese Macron abbia sciolto l'assemblea nazionale dato che il primo partito è quello della sua rivale ed esponente di estrema destra Marine Le Pen che ha doppiato non era obbligato a farlo è stata una scelta sua criticata tra l'altro anche dal leader dei socialisti che l'ha definita una scelta scellerata sì sì naturalmente è una scelta molto rischiosa è anche vero che altri analisti hanno suggerito che innanzitutto il presidente francese ha sciolto le camere quindi il tema riguarda il governo e non la presidenza stessa perché in quel caso si tratta di una repubblica presidenziale quindi il mandato di Macron è in ogni caso assicurato fino se non sbaglio al 2027 e poi il secondo tema è che naturalmente se ci fosse stata se lui avesse continuato con il governo che è espressione del suo partito ormai di minoranza si sarebbe creata una situazione in cui naturalmente scusate il rassemblement nazionale cioè il partito di Marine Le Pen perché stavo citando il vecchio nome ma ha cambiato nome alcuni anni fa poteva addirittura rafforzarsi stando all'opposizione quindi diciamo c'è anche una strategia da parte di Macron volevo aggiungere ricollegandomi a quello che tu dicevi all'inizio che di nuovo senz'altro gli italiani hanno votato per questioni interne è anche vero che visto da qui da Bruxelles dove sono in questi giorni e dove sono spesso per seguire l'attualità europea i risultati sono anche leggermente diversi è evidente che l'Italia è molto diciamo che in Europa non cambia molto più o meno la situazione rimane la stessa allora dal punto di vista tecnico della maggioranza è così come dici tu nel senso che le grandi famiglie storiche le facciamo vedere che abbiamo i risultati abbiamo tutto stasera abbiamo tutto la grafica eccole qui il Partito Popolare è ancora maggioranza con il 22% il Partito Socialista 19% i Conservatori dove c'è la Presidente del Consiglio il 12% Renew Europe 10% Identità e Democrazia che invece è il luogo dove si trova Salvini 8,94 il Movimento 5 Stelle tra i non iscritti 8,81 poi i movimenti Verdi e di sinistra 8,61 6,64 insomma non ci sono grosse novità a livello europeo telegrafico non ci sono grosse novità ma è evidente che l'estrema destra ha vinto in modo molto chiaro in Francia e anche in Germania e che questo avrà un impatto nei prossimi giorni sulle trattative per la Presidenza della Commissione certo perché adesso c'è in ballo la Presidenza Aldo Torchiaro interessante il giro d'opinione che hai fatto fare direttore vorrei partire soltanto con un'osservazione a Val d'Ambril dicendogli che secondo me Macron ha fatto molto bene molto bene a differenza di quello che sostengono i socialisti francesi perché ha fissato i termini delle elezioni per le legislative francesi in termini molto ravvicinati fine giugno luglio questo taglia le gambe all'assemblement nazionale impedisce loro di svolgere una campagna elettorale che sarebbe stata dirompente e distruttiva attenzione in Francia si vota con il secondo turno la dinamica del secondo turno porterà Macron a proporre ai francesi un referendum volete voi stare con la democrazia quella che loro chiamano lo spirito repubblicano o con il lepenismo perché qui c'è un bivio della storia quindi Macron chiamando le pen da un lato e tutto il resto del mondo la democrazia la storia i valori dall'altro cerca come dire di fare la sua partita di portarla in porto ai professori Policastro e Castellani che saluto Lorenzo vorrei chiedere una riflessione di questo tipo perché tu direttore parlavi del ravvicinamento tra Meloni e Schlein tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia ravvicinamento in termini di consenso naturalmente 24 28 ma non c'è solo il ravvicinamento in termini di consenso c'è un ravvicinamento vero tra queste due forze e questa io la trovo l'anomalia italiana chi ha seguito oggi la conferenza stampa appunto di Alice Line ha sentito come lei sorridendo diceva ci siamo telefonate con Giorgia Meloni certo ma ci mancherebbe io le ho fatto i complimenti lei mi ha fatto i complimenti tutte e due abbiamo vinto ma è dall'inizio che entrambi vogliono alimentare questo dualismo questa loro dinamica dualista perché hanno capito che probabilmente ed ecco la trappola aiuta entrambi è certo che aiuta entrambi però attenzione che è un grande infingimento queste non erano affatto elezioni col maggioritario qui si portava col proporzionale e allora perché ci hanno fatto credere che c'era il PD contro il Fratelli d'Italia non era vero tutti i partiti correvano in termini di uguale competizione tu rimani dopo gli altri no vado da Lorenzo Castellani anche per i quesiti interessanti che hai posto le riflessioni cosa ne pensa professor Castellani ma diciamo questo è vero ma è chiaro che due leader dei due maggiori partiti in qualche modo cercano sempre di aiutarsi tra di loro in tutte le dinamiche anche appunto fingendo cioè quando c'è un sistema proporzionale alla Schlein ha fatto molto comodo questa copertura di Meloni secondo me perché gli ha permesso di rafforzarsi nel partito gli ha permesso di mettere in difficoltà i centristi di mettere in difficoltà Giuseppe Conte e di fatto l'ha lanciata in qualche modo come con lei che dà le carte a sinistra poi vedremo magari non sarà lei il candidato premier ma sicuramente diciamo la verità molti di noi avrebbero scommesso su una Schlein che se fosse andata a mare alle elezioni ci avesse fatto il 19-20% avrebbe potuto anche dare forfè in qualche modo alla segretaria del PD o sarebbe stata fatta fuori poi per il PD secondo me conta un altro discorso oltre a questa mano che gli ha dato Giorgia Meloni e che vuole essere anche più ampia perché poi ricordiamo non ci sono stati quei confronti TV a due che le due avrebbero voluto in qualche modo poi non c'è stata anche un'altra cosa mi rifate regia quella bella inquadratura che avete fatto sui partiti Meloni PD a un certo punto che eravate inconsapevoli della vostra bravura no adesso la rifate quell'inquadratura eccola qua che cosa notate vediamo un po' chi risponde per primo in un uno c'è il nome di Giorgia Meloni e nell'altro vi ricordate che la Schlein voleva mettere il suo nome nel logo del partito no professore Castellani sì ma è stata fatta può chi lo sa magari aveva ragione era quello che stavo per dire nel senso che perché non ha messo il nome del simbolo perché il PD si è battuto facendo scendere in campo in queste elezioni dei grandi collezionatori di preferenze che rappresentano per certi versi meglio che il PD può esprimere parlo di Gori parlo di Bonaccini parlo di De Caro cioè parlo di personalità sul territorio che in qualche modo ci sia stata un po' diversa secondo me però qui parlo di personalità che hanno voti sul territorio sono poche in Italia sono poche in genere e il PD ne ha molte più degli altri partiti quindi questo ha aiutato Schlein se posso un'ultima cosa però questa cosa espone anche al rischio di un'illusione ottica nel senso che in una elezione in cui vota il 49% degli italiani chi ha questo tipo di organizzazione è molto avvantaggiato io guardavo oggi i flussi il centro-destra in assoluto ha preso meno voti ma i flussi vanno tutti verso l'astenzione questo che significa che quel bacino lì è non attaccato dalla sinistra e quindi se c'è un'elezione con 10-15 punti percentuali di consenso in più molto probabilmente il distacco che già c'è aumenta allo stato attuale grazie professore così diamo spazio anche agli altri Poli Castro allora l'illusione ottica dell'astenzione poi un altro tema interessante è stato posto dal professor Castellani i nomi che sul territorio attirano prendono voti e poi io quando ho nominato Cecilia Strada Castellani ha detto no quello è diverso io ho capito cosa mi voleva dire quello è più un testimonial è stata un po' anche l'elezione dei testimonial Cecilia Strada la Salis Vannacci adesso lo dico tutto rispetto testimonia però per capirci insomma beh candidature simboliche sì ce ne sono state e sono state utilizzate in particolare Vannacci era proprio un chiaro esperimento un chiaro tentativo di aggiungere voti quello che aveva fatto tra l'altro con il successo Salimini perché quelli erano voti che difficilmente o non necessariamente sarebbero finiti alla Lega ma probabilmente sarebbero rimasti dell'astensionismo e che invece il generale Vannacci è riuscito appunto a raccogliere comunque a proposito di illusioni dell'astensionismo l'altra grande illusione è che è vero che adesso sembra un gigantesco bipolarismo però in realtà il terzo polo che sembra essere sparito e svanito comunque si ha fa il 6-7% a queste elezioni avrebbe fatto il 6-7% no l'illusione ottica è perché ragazzi metà degli italiani non è andata a votare è un fatto clamoroso signori è un fatto clamoroso che secondo me ancora non so perché non viene preso in esame nessuno se ne preoccupa io lo trovo anche preoccupante a livello democratico Andrea Valdambrini cosa cosa ne pensi di questa di questa situazione perché aspetta io non so negli altri paesi come è andato il voto non so se tu ne hai contezza se c'è stata l'astensione oppure partecipazione allora sì ovviamente su 27 paesi i dati sono molto molto diversi va considerata una cosa c'è un dato medio dell'affluenza europea che è al 51% si può considerare alto o basso ma è più o meno quello di 5 anni fa siamo lì appunto la media europea significa non solo gli italiani i cittadini europei hanno cominciano a avere un rifiuto nei confronti della partecipazione elettorale che detto in termini molto semplici è un rifiuto della politica perché quando decidi di andare a votare significa che tu durante l'anno hai guardato la politica con fastidio c'è poco da fare non hai trovato una scelta da fare non hai trovato 5 minuti del tuo tempo da dedicare a questa scelta o non l'hai voluto trovare ci sono però situazioni molto diverse se non sbaglio ma correggetemi se sbaglio davvero perché vado a memoria in Germania l'affluenza è stata piuttosto alta 64% non altissima ok grazie professore non altissima però piuttosto alta ci sono paesi anche qui vado a memoria forse la Slovacchia o la Repubblica Ceca ma potrei confonderle dove la Francia è stata invece bassissima o anche in Croazia e Slovania è stata bassissima vuol dire 15% ci sono paesi dove è obbligatorio votare in Belgio dove sono in questo momento il voto è obbligatorio che non è tra l'altro l'unico paese in Europa obbligatorio vuol dire che votano il 96% delle persone quindi ovviamente obbligatorio in Belgio voto obbligatorio e chi non va a votare che succede? viene multato viene multato ecco pensate sono in sede civile ovviamente non in sede penale ci sono altri paesi del mondo dove è obbligatorio ad esempio il Brasile non conosco tutta la casistica ma ci sono diversi paesi al mondo dove il voto è obbligatorio e chi lo sa e ci sono evidentemente delle non so se i nostri partiti ci penseranno secondo me questa situazione fa anche molto comodo per certi può essere una soluzione per fare cassa oppure può essere una soluzione per fare cassa torchiaro sempre caustico ma pragmatico allora io vi ringrazio perché abbiamo innescato il dibattito con opinioni veramente interessanti quelle di Lorenzo Castellani docente di storia e istituzioni politiche da Luis grazie professore grazie Davide Policastro e quindi Utrend poi nei prossimi giorni immagino saprà darci dei dettagli anche sul voto i flussi e tutto quello che analizzerete grazie Davide Policastro buon lavoro e buon lavoro in Europa per questa Europa che verrà ad Andrea Valdambrini che ne scrive per il quotidiano Il Monifesto ben trovato grazie Aldo Torchiaro rimane con noi con altri tre ospiti che si susseguiranno insomma avremo sicuramente anzi altri due mi suggeriscono ovviamente dalla regia che sono insomma due opinionisti chiamiamoli così di peso un economista e un giornalista ma vi sveleremo tra poco la sorpresa adesso linea alla regia poi torniamo con l'imprenditore e gli altri L'Europa vira a destra o quasi un vero e proprio terremoto è quello che è avvenuto politicamente parlando in Francia la destra del ressemblément nazionale di Marine Le Pen e Jordan Bardellat stravince con oltre il 30% dei consensi il doppio rispetto a Renaissance il movimento del presidente Emmanuel Macron che preso atto della debacle europea decide di sciogliere l'assemblea nazionale e indire nuove elezioni il prossimo 30 giugno un annuncio che ha portato migliaia di transalpini in place della Repubblica per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra avanzata della destra che in Belgio invece ha spinto alle dimissioni il premier Alexander De Creux paese dove si votava anche per le elezioni politiche e che ha visto il partito liberale del primo ministro scendere a nemmeno il 6% dei consensi sconfitto nettamente dal partito nazionalista Fiammingo che ha ottenuto il 21% dei voti secondo solamente i populisti di destra di interesse Fiammingo in Germania invece la CDU che fu di Angela Merkel nonché di Ursula von der Leyen conferma di essere il primo partito europeista e cuore del partito popolare europeo scelto dal 30% degli elettori le notizie però sono altre e forse più preoccupanti la sorpresa riguarda l'estrema destra di Alternative für Deutschland con il 15,9% dei consensi il parallelismo tra AfD e CDU sorprende anche per il voto nei giovani fra gli elettori under 24 infatti i due partiti ottengono il 17% ciascuno con la differenza però che il partito di destra cresce di ben 12 punti rispetto alle elezioni del 2019 a proposito di risultati l'ESPD del cancelliere Olaf Scholz perde terreno e si attesta come terza forza politica il 13,9% dei consensi rappresenta il dato peggiore per i socialisti nelle 10 tornate europee male anche i verdi in Germania che dimezzano i loro voti dal 20% a poco meno del 12 dalla Germania all'Austria anche Vienna segue il vento nazionalista e alle urne premia Harald Wilimski e il partito della libertà formazione di ultradestra come prima forza politica a livello europeo l'Austria è il paese dove l'estrema destra ottiene il risultato migliore con il 25,7% dei consensi in Spagna infine vincono i conservatori il partito popolare di Alberto Nunez Feijó infatti prosegue il buon risultato ottenuto alle politiche scorse conquistando oltre il 34% dei consensi segue in scia staccato solo di 4 punti il partito socialista del premier iberico Pedro Sanchez anche qui però l'estrema destra c'è Vox la formazione sovranista partner di Fratelli d'Italia conquista il voto di circa un elettore su 10 classificandosi in terza posizione lo diceva Totò e poi dice che uno si butta a destra si butta a destra l'Italia ma si butta a destra anche l'Europa oggi in questa parte ne parliamo con il vice direttore della verità Francesco Borgonovo ben trovato Francesco buonasera 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 grazie per essere qui con noi so che sei in chiusura di giornale ma cercheremo di ottimizzare i tempi Stefano Fassina economista già viceministro e insomma storico esponente definisco storico non voglio dare una vecchio no ho detto storico per diciamo la coerenza ecco la costanza nel tempo sempre a sinistra Fassina e allora parto parto da Fassina l'Europa si butta a destra Fassina mi pare che i dati siano piuttosto chiari e che vadano innanzitutto riconosciuti certamente c'è stata un'avanzata molto consistente delle destre ovunque sostanzialmente ovunque il punto è uscire un po' e lo dico soprattutto rivolgendomi a chi commenta dalle mie parti uscire dalla retorica del vento e capire perché questo è avvenuto ci sono delle cause che vanno individuate e che vanno affrontate esorcizio quali sono non è un vento dice Fassina Fassina dice la retorica del vento la spieghiamo ai telespettatori è vabbè è un vento poi diciamo chiudiamo le finestre e il vento non passa più il malcontento l'opinione pubblica reagisce male alla situazione vota a destra Fassina dice basta con questa storia perché c'è qualcosa che va diciamo analizzata e approfondita che cosa sta accadendo cosa sta dicendo l'opinione pubblica europea sta dicendo innanzitutto che l'unione europea il mercato unico europeo l'impalcatura non funziona lavoratori e classi medie hanno dato un messaggio molto chiaro non si sono svegliati all'improvviso perché diciamo l'avanzamento delle destre è in misura certamente minore anche l'affermazione da qualche parte di sinistre con un paradigma con un impianto alternativo a quella della famiglia socialista da tempo indicano che questa Europa genera sofferenza sociale e quindi coloro che continuano a celebrarla si mettono contro appunto una sensibilità diffusa che riguarda ampi strati di popolo anche quelle parti che prima votavano a sinistra che appunto innanzitutto non vanno a votare e a me preoccupa il fatto che si sottovaluti in modo così sistematico la caduta della partecipazione al voto quando in un contesto di guerra come quello che stiamo attraversando in stati importanti tra i quali l'Italia vota meno della metà degli eventi diritto credo che qualche domanda dovremmo farcela prima di valutare poi quelli che votano chi votano dovremmo capire perché c'è un'astenzione stiamo diventando una democrazia censitaria dove votano tendenzialmente quelli che stanno meglio quelli che stanno peggio non vanno a votare da uomo di sinistra questa cosa mi dà profondamente preoccupazione una preoccupazione profonda più che il voto alla destra questa porzione insomma di riflessione la giro a Francesco Borgonovo il vice direttore della verità qual è la tua valutazione insomma di questa situazione il voto a destra ma anche quello che diceva Fassina il voto sta diventando un qualcosa di elitario ma no io sono d'accordo con Fassina quando quando nota la stensione un grosso problema però basta vedere quello che sta succedendo qui in Italia ma possiamo allargarlo anche un po' al di fuori i nostri confini hanno perso clamorosamente due figure due leader che non solo avevano fatto dell'europeismo una bandiera ma che negli ultimi mesi sono distinti per delle sparate incredibili riguardanti l'Ucraina mandiamo le truppe sulla terra utilizziamo le armi per colpire anche il territorio russo cose delle più deliranti durante le celebrazioni lo sbarco in Normandia sono stati per certi versi agghiaccianti insomma perché parlavano di sacrificio di nuovi sacrifici che bisognerà fare sentite gente che diceva l'economia di guerra ormai voglio dire il delirio e questi hanno preso delle sberle incredibili parliamo di Macron e Scholz ovviamente però i partiti che vincono questi di destra che vengono erroneamente definiti ultradestra sento su tutte le reti diciamo mainstream vince l'ultradestra di qua di là in realtà sono tutti partiti molto diversi fra di loro cioè AFD è radicalmente diverso dalla Le Pen che è radicalmente diversa da Wilders che è radicalmente diversa da Vox che è radicalmente diversa per un esempio l'olandese Wilders è un ultraliberale uno che a fratelli d'Italia probabilmente giudicherebbe simile alla Bonino quindi un nemico pubblico tra i primi di tutti questi partiti uno che dica facciamo immediatamente la pace bisogna che si faccia domani si smette di mandare armi e si esca da questa situazione non c'è allora l'elettore che evidentemente ha votato anche per porre rimedio a queste situazioni in Italia si domanda ma quindi il mio voto che cosa cambia all'effetto pratico cioè noi continuiamo a dire va bene questa Europa che non piaccia questa Europa l'abbiamo capito che non piacciono una larga fetta di popolazione gli europeisti lo abbiamo anche capito pure questo tant'è che la Meloni anche dopo un periodo di governo dopo il quale di solito la fiducia la simpatia calono invece continua a prendere voti e vanno bene più o meno tutti questi partiti diciamo così eurocritici mettiamoli in questo modo però poi alla fine della fiera che cosa propongono in che cosa si propongono di cambiare radicalmente l'Unione Europea il patto di stabilità è già stato firmato ed è probabilmente peggio di quello precedente sulla guerra abbiamo detto che di grandi cambiamenti di strategie non ce ne saranno sull'immigrazione abbiamo visto che si tentenna e non poco tra l'altro ammesso che poi riescono a fare una maggioranza questi qui quindi alla fine della fiera è chiaro che l'elettore si dice ma io che cosa vado a votare a fare è il risultato che abbiamo già c'era una grossa disaffezione verso le elezioni europee abbiamo dei risultati abbastanza ghiaccianti che giustamente preoccupano Fassina sul fronte della partecipazione democratica caldo dottor se mi fai dire una battuta chi sente il vento di destra forse lo confonde con l'aria condizionata e l'aria condizionata qual è? quella intanto della nostra lente diciamo di italiani perché oggettivamente le elezioni ci consegnano un centro destra più forte per quanto riguarda l'Italia ma in Europa non è così Borgonovo lo ha già accennato per la verità il quadro è molto composito uno premessa obbligatoria indispensabile il partito popolare europeo se noi gli andiamo a dire sentiamo un vento di destra chiudono porte e finestre si peccano di essere un partito di centro una forza moderata centrista contro le destre che sono ben rappresentate dal Parlamento europeo da altri gruppi ECR identità e democrazia loro no peraltro nella mappa geografica lo stiamo vedendo nella grafica che ci manda in onda la regia nella geografia europea il Portogallo di ieri ha visto trionfare i socialisti ci sono stati tantissimi casi diversi dove la Danimarca è andata totalmente ai verdi la Repubblica cieca la Slovacchia sono andati ai liberali insomma è molto composo il quadro e quindi prima di dire ha vinto la destra no da noi ha vinto la destra di Giorgia Meloni ed è un dato inconfutabile anche in Germania e in Francia diciamo appunto non sono proprio rilevanti e diciamo che l'asse il punto che l'asse franco tedesco scusa se interrompo è stato ne esce fortemente ridimensionato poi è vero che altrove vincolo e tra l'altro non è nemmeno detto che questa destra riesca a fare una maggioranza perché se vuole il PPE con altri come dire c'è spuglietti di qualità con gli socialisti ma secondo voi scusate secondo voi la bocciatura di Macron e Scholz è dovuta a fattori interni di insoddisfazione politica o proprio riconducibili al fatto che loro si sono esposti sulla guerra è dovuta a fattori interni alla mente di Macron e Scholz ma dei fattori che andrebbero indagati da seri professionisti Macron è uno che ha detto tutto il contrario se voi prendete un mese di dichiarazioni di Macron li mettete in fila riesce a smentire se stesso del giro di 24 ore è uno che prima dice di mandare le truppe di paracadutare i navi Sils per uccidere quello non sia stato quello il problema ma poi è uno che è uno che è prima delle proteste con le bastonate in Francia la disoccupazione è al 12% da noi in Italia al 6 quando si vota poi alla fine le questioni vere sono quelle si vota anche e soprattutto guardando alle tasche più che al tipo di arma che eventualmente però siccome si erano molto esposti Francia e Germania si erano esposti con frasi diciamo che abbiamo definito a volte eccessive come quelle durante ma l'economia tedesca è ferma da due anni ha rallentato completamente la disoccupazione a Parigi è il record cioè questi sono elementi che favoriscono le opposizioni dunque chi è l'opposizione di Scholz quelli chi è l'opposizione di Macron la Le Pen e così vanno avanti ma temo più per diciamo demeriti dell'economia che per io voglio far riprendere però Fassina perché gli ho iniziato gli ho messo subito sotto l'estrema destra e quindi vorrei che avesse un coltro a colpo emotivo e gli voglio dare dei sali per riprendersi che è il voto dei fuori sede degli studenti vero se non sbaglio redazione studenti fuori sede eccolo qua e il partito di maggioranza degli studenti fuori sede italiani è l'alleanza verde sinistra 40% poi c'è il partito democratico 25% che fa 65% se i due partiti fossero diciamo rappresentativi e lo sono del centro-sinistra poi abbiamo azione con calenda 10% movimento 5 stelle 7% stati uniti d'europa 7% fratelli di italia 3% e il 2% di forze italiane cioè gli studenti fuori sede ribaltano il voto Fassina vede speranza nei più giovani ecco questi poi sono gli altri ovviamente voti che sono stati dati dagli studenti fuori sede Fassina che ne pensi? ma ovviamente è un dato che fa piacere purtroppo come noto non è un campione rappresentativo no nel senso che non mi stupisce francamente stiamo parlando di di un sottogruppo di giovani che ha e non è la prima volta posizioni che poi sono riflesse nel voto c'è stata anche una grande mobilitazione come sapete in questi mesi nelle università intorno soprattutto alla vicenda israelo-palestinese dopodiché a proposito di giovani sono la categoria che vota meno quindi questo per ritornare sul punto della credibilità della politica quindi fa molto piacere vedere questi dati degli studenti universitari fuori sede dopodiché i giovani in particolare i giovani perché il non voto ha una componente sociale di classe avremmo detto un tempo molto netta e anche tra i giovani questa è la questione di fondo dopodiché per interloquire con dottor Torchiaro è evidente che ci sono tante dinamiche nel voto di 27 stati dopodiché l'epicentro cosiddetto europeista è stato l'epicentro franco-tedesco e diciamo dei risultati che portano quel governo sono anch'io abbastanza convinto e lo dico diciamo facendo autocritica su me stesso che la guerra e la pace non hanno giocato un ruolo significativo in questo passaggio elettorale dopodiché vedere che quei due leader diciamo di fatto i frontman di quello che viene chiamato europeismo escono così colpiti poi appunto magari non è ultra però a FD che diventa il secondo partito in Germania francamente con le posizioni che ha qualche elemento di preoccupazione poi non so se l'aggettivo ultra proprio o improprio dopodiché qualche preoccupazione me la dà il fatto che quello diventa il secondo partito in Germania qualche preoccupazione me la dà anche la Le Pen che va sopra il 30% però diciamo il punto politico qual è che tutte le chiacchiere sugli Stati Uniti d'Europa sulla riforma dei trattati stanno a zero bisogna prendere atto che dobbiamo far funzionare l'Europa intergovernativa se vogliamo fare un po' di politiche europee perché se invece si continua con la narrazione che facciamo gli Stati Uniti d'Europa facciamo la fine che ha fatto Renzi e Labbonino assolutamente meritata per quanto mi riguarda benissimo grazie Fassina per queste parole abbiamo fatto una fine ma uno stop momentaneo Fassina più caustico di Borgonovo il che è tutto dire ma ho sentito Borgonovo come dire far partire una botta di ironia prima sui dati dei fuorisede cosa dicevi di fronte a quei voti lì ci sono due spiegazioni trattandosi di studenti o la droga o la perversione sessuale o entrambi i fenomeni contemporaneamente cosa che non escludo beh no ma è chiaramente un caso di masofismo c'è uno studente lo motivo lo motivo uno studente allora posso capire alleanza verde e sinistra anche se di fatto fanno poi la stampella del partito democratico ma uno che vota il partito democratico un ragazzo che vota a quelli che anche solo basterebbe solo il fatto che l'abbiano recluso in casa gli abbiano impedito di andare all'università in presenza per anni poi uno che quelli che gli hanno rubato il futuro che gli tolgono gli stipendi che gli tolgono il lavoro che hanno sostenuto quest'Europa che schiaccia evidentemente ogni schiacci salari schiaccia le classi medio-basse infierisce sui poveri cioè sono questi sono esattamente tutti i partiti che vedete lì con l'eccezione dei 5 stelle che però per certi momenti sono prestati anche loro a qualche a qualche strana cosa anche anche Fratelli d'Italia al centro-destra ormai sono su posizioni file europeiste no? ma infatti io non so come si faccia a dire come fa qualche giornale che Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra ma è questo il punto io credo invece che la guerra abbia pesato e credo che Giorgia Meloni sia stata molto abile nello smarcarsi dagli altri due e far vedere che aveva una posizione leggermente diversa ma è ovvio che questi partiti restano tutti saldamente nell'area europeista con qualche malumore della Lega che conosciamo in particolare alcune persone ma è ovvio che siano lì e per me questo è un tema drammatico noi abbiamo fatto delle elezioni forse non vi ricordate del 2016 in cui il tema anche addirittura dell'uscita dell'Italia dall'Europa era sul piatto ora non se ne può nemmeno parlare non si mette in discussione no assolutamente aspetta aspetta Francesco e questo è un punto importante a confermare quello che dici tu secondo me c'è il fatto ad esempio che Fratelli d'Italia ha il primato dei voti nel nord-est cioè in un'area dove la cautela diciamo nell'approccio al voto funzionale all'economia e agli come dire gli standard di sistema guarda proprio a Fratelli d'Italia che se avesse le caratteristiche appunto di un partito anti-europeista magari non avrebbe questo consenso Giorgio Meloni ha capito tutto da questo punto di vista questo è ecco voleva arrivare a questo è una leader moderata è diventata una leader moderata ha raccolto l'eredità di Berlusconi con tutta evidenza ha avuto una grande abilità e anche i voti ha avuto una grande abilità nel fare quello che ha fatto evidentemente era assicurante e piace ogni tanto da qualche colpetto sul gas come ha fatto con De Luca e altri campagna elettorale ma è una leader moderata e ha tutto il diritto di esserlo semplicemente non rispecchia le mie posizioni su questo guardiamo un attimo guardiamo un attimo perché signori adesso c'è poco da girarci intorno questo è stato il successo di Giorgio Meloni 2 milioni e 300 mila preferenze Italia e il nord orientale Meloni prende 484 mila preferenze Bonacini 380 mila Vannacci Tagliani Lucano che è stato tra l'altro riconfermato sindaco di Riace dopo le vicende giudiziarie e poi Pignedoli del Movimento 5 Stelle andiamo in un altro quadrante del nostro paese ancora la Meloni 611 mila voti è la primatista nel nord occidentale segue Cecilia Strada PD Vannacci ancora e poi la Salis con 121 mila voti Tagliani Pedulla del Movimento 5 Stelle altro quadrante Italia Centrale ancora la Meloni perde qualche voto rispetto al nord 453 mila poi Lashlein Vannacci Tagliani Marino Morace e scendiamo al sud Meloni 549 mila De Caro 493 mila preferenze ricordiamo che De Caro passa per una fase molto delicata appunto a contatto con un'esperienza giudiziaria chiamiamola così poco piacevole Tridico giudiziario politica ecco per meglio dire Tridico Movimento 5 Stelle Tagliani Lucano Bannacci cosa ci raccontano questi dati Borgonov anzi Torchiaro poi rifacciamo il giro passino a Borgonov ah ci devi salutare Francesco ci devo purtroppo salutare vai vai allora facci una battuta tu finale ah no sul Movimento 5 Stelle così volete anche questo volete farmi male appena dopo su queste preferenze su queste preferenze cioè ti confermano l'analisi che facevi tu sulla Meloni cioè che non è un leader di destra è un leader che piace anche al ceto moderato ma è ovvio ma qui non ci sono più ragazzi qui non c'è più la sinistra estrema e la destra estrema non esistono più qui cioè anche alleanza verdi e sinistra parlarne come di una sinistra radicale può dire che il PD con la Schlein si sposta a sinistra l'analisi che hai sentito io sinceramente non le condivido per niente mi sembra che il partito democratico sia un partito totalmente neoliberista e mainstream e ha una propagine leggermente più liberaloide nel senso di liberal americano che è alleanza verde e sinistra che peraltro serve a portare questo tema green che piace molto ai giovani perché si bevono tutta la propaganda di Netflix e simili ma che qui ci siano ancora una destra e una sinistra forti e poi tra l'altro sono due idee che purtroppo hanno fatto per fortuna hanno fatto il loro tempo servirebbe qualche elemento critico in più a mio avviso però non se ne vedono in giù ti lascio la chiusura del giornale grazie come aprite domani il titolo ce l'hai già all'apertura? no ancora no ancora no giustamente allora domani la scopriremo con le rassegne stampa grazie Francesco Borgonovo grazie al vice direttore della verità Aldo Torchiaro e allora io salutando anche io Borgonovo però voglio entrare un po' sul tema dei dati che abbiamo appena visto Meloni che fa l'asso pigliatutto per il centrodestra e fa la regina delle preferenze mezzo milione 600 mila guardate che è un atto rivelatorio di una debolezza strutturale di che cosa di quel partito che prende tutto ma non ha classe dirigente no non ha classe dirigente ma lo vediamo quando sono costretti a mandare qualcuno in televisione mandano gli stessi tre persone quattro persone come fosse una lista civica locale eppure fanno però il tema dell'espload dei leader da Renzi in poi e poi del loro declino è una costante sono brevissimi ormai Renzi Salvini Conte io però ho l'impressione che la Meloni abbia delle caratteristiche che potrebbero renderla più duratura io mi ricordo i migliori i migliori retroscenisti che dicevano nel 2015 con Matteo Renzi avremmo a che fare da protagonista per i prossimi vent'anni quindi diciamo facciamo previsioni sul breve periodo che andiamo più sul sicuro Meloni fa l'assopiglia tutto perché non ha nessuno dietro e se guardiamo ai kingmaker delle preferenze il PD è più strutturato e lo sappiamo Bonacini Nardella De Caro il sindaco di Pesaro Ricci Giorgio Gori a Bergamo sono kingmaker delle preferenze perché hanno un rapporto col territorio radicato e strutturato ma qui noi abbiamo dovuto far ricorso per prendere le preferenze agli stranieri così come gli stranieri della squadra così come si fa nel calcio siccome non li abbiamo in squadra e andiamo a cercare il Papa Nero come si dice all'estero persino all'estero cioè ma la Salis che fino a quattro mesi fa io non sapevo che esistesse oggi è possibile che diventa la più votata del partito rivelazione beh c'è un motivo c'è una ragione ho capito ma chi la conosce ma io non ho mai sentito parlare però lì quello è un voto il generale Vannacci che adesso sembra diventato Babbo Natale il personaggio più familiare di tutti gli italiani ma fino a pochi mesi fa io non l'ho mai sentito nominare se scorriamo sono c'è un numero di outsider che vengono introiettati nella scena che sono oggettivamente appunto la Morace è una sportiva una che si dedicava allo sport e adesso diciamo corre in politica e vince e fa la Kingmaker nei 5 stelle ma insomma parliamo di prestiti dalla società civile della politica sì che poi appunto bisognerebbe poi capire la reale poi incidenza che possono portare in Europa che cosa fanno al Parlamento Europeo è una grande incognita infatti io vorrei andare da Fassina e chiudere così perché Fassina prima ha esposto anche le sue ben note critici diciamo pareri critici rispetto al rapporto tra l'Europa e la nostra condizione economico sociale in questa campagna elettorale praticamente tutti chi in un modo chi in un altro voleva cambiare l'Europa la cambieranno questa Europa Fassina? ma lo spero mi pare che diciamo il livello di elaborazione lo dico con grande rispetto per tutti gli interlocutori sia piuttosto scarso nel senso che c'è bisogno appunto di capire che cosa non funziona mentre mi pare che si proceda al di là delle chiacchiere con grande disinvoltura faccio l'esempio dell'allargamento dell'Unione a altri nove stati inclusa Ucraina Moldavia e quant'altro se si procede verso quella direzione i problemi economici e sociali di chi lavora delle piccole imprese si aggraveranno uno che oggi vuole cambiare l'Europa dovrebbe innanzitutto dire fermiamo ogni ulteriore allargamento mettiamo a posto il mercato unico che così com'è fa male ai lavoratori e fa male alle piccole imprese questo dovrebbe dire in modo chiaro mi ho sentito poche di parole chiare vedremo vedremo spero appunto che questo voto faccia riflettere coloro che hanno professato la religione dell'europeismo in modo così disinvolto in questi anni e lo dice uno che vuole maggiore integrazione non vuole tornare indietro trovo affatta tenendo conto di quelle che sono le conseguenze economiche e sociali delle scelte che si fanno altrimenti il vento di destra diventerà uno tsunami ma non perché è cambiato il clima perché lo alimentiamo attraverso scelte sbagliate Stefano Fassina grazie grazie a risentirci presto buon lavoro ovviamente Aldo tu che fai ci lasci devi lasciarci saluto e torno a scrivere torni a scrivere per il riformista facciamo vedere la prima pagina di domani del riformista che è già pronta eccola qua riformismo a capolinea questa è la foto del viaggio in Ucraina in treno verso l'Ucraina con Macron al centro tra Draghi e Scholz tre protagonisti che stanno conoscendo periodi complicati periodi complicati di chissà che Draghi non possa servire a un ritorno la speranza è l'ultima a morire grazie Aldo Torchiaro ti leggiamo sempre volentieri sul tuo quotidiano il riformista adesso linea la regia e poi prosegue l'ultima parte del nostro confronto post elettorale con altri ospiti altre idee altre opinioni e ovviamente speriamo il vostro gradimento su Cusano Italia TV E allora prosegue il dibattito qui all'imprenditore e gli altri storica trasmissione di approfondimento politico di Cusano Italia TV oggi interamente dedicato era doveroso farlo a tutto quello che può essere l'analisi post elettorale e insomma di opinioni ne abbiamo avuto tante ma proseguiamo perché ovviamente è sempre importante guardare a questa tornata elettorale da più prospettive come quella di Marco Cesario giornalista di Micromega in collegamento da Parigi bentornato Marco grazie per aver accettato il nostro invito Buonasera a tutti sono ancora proteste in piazza contro il pericolo dell'estrema destra così definito o si sono limitate alla giornata di ieri ci sono ancora proteste in piazza a Place de la Republique per ora insomma abbastanza pacifiche rispetto alla media insomma francese più che altro il popolo francese è abbastanza diciamo traumatizzato da quello che è accaduto per la prima volta vediamo il partito rassemblement nazionale alle porte dell'esecutivo Macron del resto è stato in passato no? se non sbaglio la Le Pen era arrivata al ballottaggio più volte assolutamente però questa volta suscita così diciamo perché forse si pensa che ce la possa fare questa volta la Le Pen assolutamente è alle soglie del governo infatti la manovra di Macron è disperata per la prima volta scioglie l'assemblea nazionale da soltanto 15 giorni di tempo per preparare delle elezioni perché appunto i candidati dopo aver sciolto l'assemblea i candidati possono presentare le liste fino al 16 17 giugno e poi il 30 giugno c'è il primo turno quindi insomma situazione disperata e questa è una manovra dell'ultima ora insomma per cercare di recuperare la situazione che cosa spera Macron? spera di creare un fronte repubblicano in cui adescare diciamo deputati del centro scontenti di sinistra scontenti dei neogollisti del partito le repubblicano ex partito di Sarkozy e di diciamo convogliarli nel suo partito per fare un fronte comune contro il rassemblement nazionale che è uno spauracchio per la parte quello che si viene a creare sempre come al solito il fronte democratico per battere la destra che però ricordo è stata democraticamente eletta e ha ricevuto democraticamente tutti questi voti quindi no perché altrimenti sembra la rappresentazione di un'invasione aliena no? e invece in realtà il vicino di casa di quello che protesta contro la Le Pen ha votato democraticamente la Le Pen però sì? per la prima volta abbiamo fasce molto giovani che hanno votato per l'assemblement nazionale 18-24 25-34 aspetta Marco però aspetta poi entriamo nel dettaglio di questo voto che è molto interessante Marco Antonellis con noi retroscenista politico ciao Marco ciao buonasera buonasera a te buonasera a tutti ma te Marco la prima domanda tu spesso hai evidenziato in maniera critica come è giusto che sia perché insomma non siamo qui per blandire la politica ma come si usa dire in diciamo nei paesi anglosassoni nel giornalismo il cane da guardia del potere è spesso insomma raccontato gli aspetti critici che dal tuo punto di vista attraversavano sia il governo che l'opposizione però mi vorrebbe da dire hai visto però gli italiani confermano sia Fratelli d'Italia e sia anche l'opposizione con la guida del Partito Democratico perché secondo te nonostante effettivamente poi nell'aria un po' di malcontento ci sia però il voto ridà la palla ad entrambi ma proprio il malcontento la chiave secondo me il malcontento cioè la polarizzazione dello scontro il malcontento noi veniamo da un scenario terrificato due anni di covid due anni e passa di guerra prima l'Ucraina adesso da qualche mese anche il fronte palestinese il fronte israeliano quindi veniamo da degli anni terribili degli anni che comunque creano una polarizzazione dello scontro ed ecco che si va a cercare chi propone delle identità più forti la Sline da una parte la sua proposta politica molto identitaria e Giorgia Meloni dall'altra è una faglia elettorale che attraversa tutta l'Europa quando c'è uno scontro molto forte quando ci sono dei sentimenti in gioco molto forti si va o a destra o a sinistra le posizioni mediane le posizioni centriste abitualmente vengono schiacciate ed è quello poi che è successo in Germania e in Francia che sono i due motori dell'Europa Unita fondamentalmente quindi il tema sarà non tanto quello aritmetico della possibile riconferma di Ursula von der Leyen ma il tema politico di come si comporteranno queste due nazioni nei prossimi mesi Macron cerca di giocare in contropiede cerca di non dare tempo di respirare probabilmente teme da parte sua un'ulteriore emorragia di consensi cerca da un lato di bloccare l'emorragia di consensi dall'altro lato cerca di sfruttare il fatto che sta all'Eliseo e questo è un dubbio vantaggio perché è una campagna elettorale quindi da praticamente pochissimo tempo per preparare la sfida agli avversari però certamente è un azzardo forse poteva temporeggiare avrebbe potuto e dovuto temporeggiare però lasciatemi dire molto bello vedete parliamo di Europa della Francia dove c'è stato sicuramente il terremoto elettorale più importante poi parliamo in Italia vedete come cambiano i tempi la politica è veramente far rete è veramente globale non ragioniamo più nel nostro piccolo orticello ma quello che accade in Francia con Macron poi alla fine ci riguarda però adesso entriamo nel dettaglio con le analisi sempre puntuali e interessante di BD Media quindi saluto Lorenzo Regiroli ben trovato Regiroli e grazie per essere qui con noi ben trovati a tutti e buonasera e allora adesso ci fermiamo un attimo su qualche dettaglio perché abbiamo proprio degli studi effettuati da BD Media partiamo dalla prima insomma grafica degli europarlamentari eletti ancora panziale centro abbiamo fratelli d'Italia con Meloni Procaccini Squarta Ciccioli Sberna Schlein Nardella Zingaretti Ricci Laureti per il PD Morace e Tamburrano per quanto riguarda Movimento 5 Stelle Tagliani per Forza Italia Ignazio Marino ce l'ha fatta l'ex sindaco di Roma ricorderete la vicenda psicodrammatica di Roma in quel periodo e Vannacci per quanto riguarda la Lega poi vediamo altro vediamo con un'altra grafica solo in questa del centro se possiamo tornare un attimo alla slide del centro mancavano quando l'abbiamo fatta mancavano tante sezioni dalla città di Roma molte di queste ce ne sono un po' che sono andate in tribunale molte di queste sono entrate anche con le preferenze Tarquigno ha recuperato molto e ora è il primo dei non elecchi a scala a Roma c'è stato un ritardo clamoroso denunciato anche dallo stesso Marino a quanto mi risulta poco o pochi istanti fa Tarquigno ce l'avrebbe fatta a superare Lamporani di una manciata di voti però credo che la vicenda romana avrà degli strascichi molto molto importanti perché dici? Ma ci sono troppe cose ci sono troppe cose da chiarire non aggiungo altro per evitare querele ma ci sono troppe cose va bene va bene andiamo con le altre grafiche B di media allora gli aeroparlamentari eletti per quanto riguarda le isole Meloni Milazzo Schlein del PD Antoci per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle Antoci tra l'altro a cui è stata dedicata una tesi di laurea da parte di una studentessa dell'Università Niccolò Cusano lo ricordo perché ero presente perché Antoci è stato vittima di un attentato per le sue battaglie contro la criminalità organizzata per alcune questioni che riguardavano fondi europei e terreni e questa studentessa dell'Unicusano ha dedicato a lui una tesi di laurea Antoci gli ha fatto la sorpresa Antoci è un uomo sotto scorta che appunto ha rischiato la vita dopo un attentato gli ha fatto questa sorpresa è stato un momento molto emozionante e volevo ricordarlo torniamo a quello che ci racconta B di media poi Edi Tamayo ma chi è Edi Tamayo scusate con tutto rispetto però mi hai sentito comunque poi Falcone Marco questo è Forza Italia e poi abbiamo Ilaria Salis per l'alleanza Verdi Sinistra Raffaele Stancanelli per quanto riguarda la Lega qui che diciamo Regiroli? Qui bisogna vedere cosa sceglieranno alcuni parlamentari se la Salis per esempio verrà eletta nel nord ovest se sceglierà il nord ovest altronde lei è di Monza quindi probabilmente sceglierà il nord ovest e entrerà Mimmo Lucano ecco interessante che in AVS in alleanza Verdi Sinistra nessuno sperava che scattasse il seggio nelle isole in realtà perché i sondaggi e le previsioni dalla vigilia lo davano sensibilmente più basso e invece è scattato anche il seggio nelle isole grazie al quasi 7% e ai 6 seggi che ha preso AVS Bene bene allora ne vediamo un'altra e poi insomma torniamo al dibattito ecco così andiamo al nord-est vediamo Fratelli d'Italia Meloni Donazzan Cavedagna Berlato Ciriani per Fratelli d'Italia Bonaccini Zammoretti Gualmini Corrado per il PD Corrado tra l'altro che sia l'ex del Movimento 5 Stelle Vannacci Cisint poi abbiamo Dorfman Herbert per quanto riguarda la lista del Sud Tirolo Sì esatto Lucano Mimmo Lucano Alleanza Verde Sinistra Tagliani per quanto riguarda Forza Italia qui c'è qualche curiosità Reggiroli qualche particolarità No qui c'è da segnalare il risultato di Bonaccini perché ci sono due eletti del PD che sono Bonaccini al nord-est e ovviamente De Caro in Sud in Puglia che hanno fatto un risultato di preferenza assolutamente clamoroso Giorgia Meloni ovviamente viene votato tantissimo perché è leader nazionale presidente del Consiglio era assolutamente atteso e ha fatto un ottimo risultato ma De Caro e Bonaccini nelle rispettive aree hanno avuto un risultato clamoroso come preferenze e hanno portato il PD hanno portato probabilmente qualche punto al PD soprattutto De Caro al Sud perché il Sud era una zona di debolezza del Partito Democratico ecco quasi 500.000 preferenze per De Caro Non male per De Caro Non male per De Caro è un sindaco Questo è interessante perché Partito Democratico adesso la Schlein ha rafforzato la sua leadership dopo questo voto però è chiaro che oltre a Bonaccini probabilmente si affaccia a un altro competitor per la segreteria nazionale che potrebbe essere proprio De Caro Marco Antonellis voglio farti vedere invece il questo diciamo bipolarismo che si è venuto a creare tra Vannacci e la Salis andiamo a vedere quella la grafica che mette questi due due outsider diciamo definiamoli così Vannacci davanti alla Salis vabbè ma poco importa tanto non è un derby però sicuramente due vite politiche brevi appena diciamo comparse ma diametralmente opposte Vannacci non provenivano dal mondo politico e per ragioni diverse la Salis e Vannacci hanno anche catalizzato l'attenzione mediatica Marco è bloccato io pensavo stesse ascoltato ma guardate non ve ne siete accorti neanche voi Marco Antonellis è bloccato allora torno da Marco Cesario tanto Marco ti chiedo e vado a Parigi se anche insomma in Italia adesso vedevamo Vannacci questi personaggi un po' fuori dalla routine politica e dallo standard politico ce ne sono sono comparsi anche in Francia personaggi simili magari presi da luoghi più diversi è apparso per esempio posso farci un esempio di Raffaele Gruxman Raffaele Gruxman è un filosofo è entrato in politica da poco e insomma è diventato praticamente ha portato il partito socialista al 13,8% ha superato addirittura alla Francia che era il principale partito di sinistra fino a poco fa adesso ha superato e quindi è diventato diciamo il terzo partito quindi è una novità assoluta quella di Gruxman però comunque sono personaggi molto molto lontani da quelli che vediamo in Italia molto meno colorati diciamo meno pittoreschi per così dire senti la fuga in avanti di Macron in alcuni passaggi riguardanti la situazione della guerra in Ucraina che hanno lasciato tutti abbastanza sbigottiti volevo capire da te se avevano sortito lo stesso effetto in Francia o se erano insomma passate non dico inosservate ma come ordinaria amministrazione e se hanno pesato sul voto secondo te per me hanno pesato molto sul voto abbiamo visto che i partiti di opposizione al governo macronista si sono immediatamente opposti all'idea di inviare uomini in Ucraina e ovviamente si sono opposti anche all'idea di dichiarare guerra alla Russia di conseguenza queste uscite di Macron che sembrano suicide inizialmente Macron ovviamente voleva la fede è quella di assumere la leadership di fede europea e creare un ombrello diciamo nucleare a protezione dell'Europa un'idea insomma strategica però che non è stata capita dal popolo francese di conseguenza è stata intercettata da questi partiti soprattutto l'Assemblee nazionale Le Pen ha fatto una campagna fortissima contro Macron e con questa idea bellicista nei confronti della Russia soprattutto il fatto di mandare soldati tra l'altro ma la Le Pen che posizione ha? cioè lei ritiene che sia giusto mandare le armi all'Ucraina oppure no? Allora Le Pen la sua posizione è molto più complessa di quella che può sembrare sicuramente l'idea di mandare militari è lontana da Marine Le Pen l'idea però di mandare armi di difesa è contemplata è accettata però armi di lunga gittata che possono raggiungere il territorio russo no ho capito allora Rigiroli trascurate sull'altare delle elezioni europee ma ricordiamo che ci sono anche state le comunali io leggo qui al volo Pescara al centro-destra Bergamo e Cagliari al centro-sinistra Firenze e Bari al ballottaggio Mimmo Lucano viene rieletto sindaco di Riace questa è stata data la notizia ha un suo valore suo significato perché Lucano finì sotto processo per alcune vicende che riguardavano proprio i migranti a Riace la Lega perde Pontida attenzione anche questo insomma qualcosa che ha un alto valore simbolico e a Mesagne c'è il sindaco più votato d'Italia 95% dei voti a Mesagne non c'è non c'è trippa per gatti come si dice a Roma allora cosa ci dicono queste comunali Regiroli? Ci dicono che in realtà i risultati sono molto a macchia di leopardo per quanto riguarda centrosinistra e centrodestra diciamo che vince qualcosa di più centrosinistra nel complesso ma il vero dato interessante è vedere che c'è una certa polarizzazione cioè non si nota magari da questa slide perché bisognerebbe andare a vedere i dati nel dettaglio ma sostanzialmente siamo tornati a una situazione quasi di bipolarismo cioè sono competitive generalmente salvo particolari i casi locali soltanto le due coalizioni principali molto spesso ci sono vedere a Pavia vedere a Bergamo vedere anche in parte a Cremona ci sono Lecce ci sono situazioni in cui di fatto ci sono solo due candidati competitivi anche a Perugia per cui la partita spesso si chiude al primo turno perché di fatto c'è già un fortissimo bipolarismo segnalo una situazione molto particolare invece che si sta verificando a potenza dove il candidato del centro-destra adesso vi vado a prendere i dati Fanelli Francesco Fanelli è al 40% con le sue liste al 50% quindi qui c'è una classica situazione di voto del sud dove le liste sono fortissime il candidato no molto meno apprezzato e per voto disgiunto il candidato prende la belletta di 10 punti meno delle liste questo è un caso estremo si verifica raramente una situazione del genere quindi probabilmente si andrà a ballottaggio e con un disgiunto negativo del genere mi viene da dire che probabilmente Fanelli lo perderà anche il ballottaggio però vedremo vedremo come finisce queste sono le alchimie del voto potremmo dire ma d'altra parte è anche figlio se vogliamo anche di un ragionamento che fa anche complesso che fa l'elettore Marco Antonelli se adesso che scenari si aprono dopo questo voto europeo beh per quanto riguarda l'Italia credo nel breve periodo non ci saranno grosse novità vedremo cosa succederà nella Lega ci sarà sicuramente qualche fibrillazione ma non credo scossoni immediati non penso che Salvini abbia intenzione di fare qualche papete anche perché si ritroverebbe si ritroverebbe senza senza ruolo politico non so nemmeno quanto il partito lo seguirebbe sarà sarà importante invece capire che succederà le elezioni americane perché certamente una riconferma di Biden avrebbe dei risvolti di un certo tipo una vittoria di Trump si unirebbe alla virata a destra dell'Europa e promocherebbe notevoli cambiamenti a livello internazionale questo è inevitabile quindi credo che per capire cosa succederà in Italia bisognerà aspettare cosa succederà a Washington non credo che da qui a novembre avremmo sorprese dopo novembre però se le cose dovessero andare in una certa maniera a Washington potremmo sicuramente avere ripercussioni anche in Italia Marco un'ultima domanda su diciamo uno dei fenomeni del momento fenomeno ovviamente nel senso lato non è un aggettivo in questo caso Vannacci generale Vannacci secondo te si accontenta del seggio nel Parlamento europeo o potrebbe venirgli voglia di avere ambizioni da capo di partito magari non dico la Lega perché la Lega non è che piaccia molto all'interno della Lega però che a un certo punto dica adesso voglio fare il generale per dar vero e propormi all'Italia a livello nazionale beh sai il tema sicuramente è sul tappeto per il momento non credo che farà nulla almeno nel breve periodo dopo qualche voglia potrebbe sicuramente venire e di fatto lui è il capo del partito cioè non si è mai vista una cosa del genere non ha nemmeno la tessera eppure si è candidato in tutte le circoscrizioni tranne una stravincendo questa è una cosa che tipicamente fanno i segretari di partito vedi Giorgia Meloni si candidano in tutte le circoscrizioni e vengono quindi si è comportato di fatto da segretario di partito per Matteo Salvini è un'arma a doppio taglio generale Vannacci bisognerà vedere fino a che punto e se riuscirà veramente a controllarlo anche perché adesso tutti sanno che l'uomo forte del partito non è più Matteo Salvini ma è il generale Vannacci perché il generale Vannacci grazie ai suoi 500.000 voti cubano quanto il 2% dei voti della Lega quindi non poco è grazie a generale Vannacci se oggi non si parla già di resa dei conti all'interno della Lega e se già non si parla di un sostituto per Matteo Salvini quindi praticamente ha salvato la poltrona di Matteo Salvini quindi il rischio vero è che all'interno della Lega conti più la parola di Vannacci che quella di Salvini c'è con tutte e poi le incomprensioni che sappiamo bene esistono all'interno del carroccio nei confronti dei confronti di Vannacci quindi diciamo che Matteo Salvini a Vannacci lo dovrà maneggiare con molta molta cura perché potrebbe venire travolto dalla Tigre bene e allora lo scopriremo anche attraverso i tuoi retroscene i tuoi articoli per il dietro le quinte della politica grazie a Marco Antonellis e grazie e grazie a Lorenzo Regiroli analista e sondaggista BD Media con cui seguiremo questa nuova fase questa nuova stagione della politica perché appunto poi c'è un effetto trascinamento del voto su quella che può essere il consenso degli italiani grazie a Regiroli e grazie a BD Media grazie buonasera e Parigi che insomma in questo momento è particolarmente attenzionata per capire cosa accadrà a livello di destra europea l'epicentro è la Francia e quindi leggeremo su Micromega il racconto di Marco Cesario grazie Marco a presto e a presto e a presto ovviamente a tutti i telespettatori di Cusane Italia TV grazie per l'attenzione rimanete qui perché nel palinsesso c'è sempre qualcosa di interessante a tenervi compagnia sul canale 122 del digitale terrestre vi aspetto lunedì prossimo